Il surrealismo è un modo di dipingere, è un modo di pensare, quindi due artisti che sono surrealisti mi è sembrato giusto accoppiarli, anche perché se tu noti i quadri esposti vedi che ci sono molti segni di congiunzione, molti segni uguali fra i due artisti. A me piace molto il surrealismo, sono un appassionato, per cui è stato facile decidere di fare una mossa sul surrealismo e spero che sia una mossa che riesca, perché gli artisti sono molto validi e i quadri sono molto molto belli a me, siccome mi piace il surrealismo, mi piacciono molto pure a me. La prossima mossa sicuramente sarà una collettiva di artisti moderni su visi, volti e figure. Poi avremo una mostra del maestro Arpa, una personale, e poi l'ultima sarà una mostra di quadri, diciamo, natalizi che con questi arriviamo proprio durante le feste di Natale. Non è che avranno come oggetto il Natale, ma saranno dei quadri che possono essere oggetto di regalo a Natale. Grazie a tutti.